Ancora graditissimi ospiti nello studio dell'EMA Web TV, questa volta con me c'è il Vice Direttore Generale Federunacoma, Fabio Ricci. Ben ritrovato Fabio. Allora con te parliamo di internazionalizzazione. Abbiamo capito che stanno cambiando le prospettive di mercato su alcuni paesi del mondo, ci sono tanti cambiamenti, saremo molti di più demograficamente parlando nel giro di pochi anni, ci sono le problematiche climatiche, però c'è un'industria italiana con grande innovazione tecnologica che possiamo affrontare il futuro. Però per questa EMA che cosa avete come Federunacoma, avete organizzato, avete invitato tante persone, insomma parliamone un pochino, facciamo un po' il punto. Sì, grazie Fabrizio e buonasera a tutti. Certamente EMA è stato sempre un melting pot di visitatori stranieri, ma credo che mai come quest'anno vediamo nei padiglioni visi da tutte e cinque continenti. Noi tra l'altro per le edizioni di quest'anno abbiamo realizzato numerose conferenze stampa all'estero, presentato EMA anche in occasione di missioni con imprese o solamente condotte appunto dalla federazione e siamo stati presenti in ben 17 paesi esteri, quindi abbiamo promosso l'EMA veramente a 360 gradi, toccando un po' tutti i continenti, Australia esclusa. Diciamo che il lavoro di promozione è stato molto peculiare e ha toccato veramente diverse aree del mondo e tra l'altro come di consueto in collaborazione con l'agenzia ICE abbiamo realizzato una missione di circa 400 operatori professionali e giornalisti provenienti da 85 paesi esteri. 85? 85 sì. Abbiamo invitando questi operatori abbiamo realizzato degli incontri B2B, ci sono state tre giornate focus, la prima riguardato l'Asia, alcuni paesi del continente asiatico, la seconda giornata che si è realizzata nel 6 novembre ha riguardato l'Africa e la terza il continente europeo e i Balcani. Sono tutte aree strategiche per noi, in particolare direi il continente africano. Abbiamo un piano Mattei che è stato varato dal governo italiano dove tra l'altro l'agricoltura è uno dei pilastri fondamentali perché sappiamo che in molti paesi africani il settore primario rappresenta ancora una quota rilevante del prodotto interno lordo, in alcuni paesi può arrivare fino al 40-50% ma soprattutto il settore primario assorbe una quota rilevante della manodopera in alcuni paesi africani. abbiamo poi anche i Balcani, un'altra area considerata strategica da parte del Ministero degli Affari Esteri che è stato appunto oggetto della terza giornata di incontri B2B. C'è da dire che per tutti gli altri operatori provenienti dai vari paesi che non sono inclusi in queste tre aree geografiche e quindi mi riferisco al Nord America, al Sud America, ad altri paesi, all'Australia. Questi operatori hanno avuto modo di visitare gli stand degli espositori italiani, di incontrarli, di ammirare le nuove tecnologie e con l'ospicio appunto di poter fare affari con le imprese italiane. È stato un programma molto articolato con questi incontri B2B e le visite presso gli stand che tra l'altro si concluderanno proprio oggi, l'ultimo giorno di permanenza di alcuni delegati stranieri e come federazione poi abbiamo ospitato anche delle delegazioni istituzionali. Ci siamo molto concentrati sui paesi africani, anche come seguito alla nostra partecipazione al G7 ad Ortigia, perché sapete benissimo che durante l'occasione del G7 non solo sono stati invitati i ministri di cultura dei sette paesi più industrializzati del mondo, ma l'invito è stato anche esteso ad 11 paesi africani. Questi paesi africani avranno bisogno però di supporto economico per affrontare un cambiamento così radicale e per investire nelle tecnologie o sono autonomi? No, certamente dipende dalle singole realtà, ma è indubbio che ci vorranno dei finanziamenti ad hoc e in questo senso il nostro governo nell'ambito del Piano Mattei ha stanziato 4 miliardi di euro soprattutto nell'ambito del Fondo Clima, gestito da CDP e altri finanziamenti che saranno a pannaggio della cooperazione. C'è da fare un ragionamento a 360 gradi perché non dobbiamo solamente fornire tecnologie, ma dobbiamo fornire allo stesso tempo, dobbiamo fare formazione, strategie, formazione sugli operatori, formazione verso i tecnici, gli agronomi di questi paesi, anche per trasmettere loro le più recenti pratiche agronomiche che devono essere applicate assieme alle tecnologie innovative e far capire che investire in una macchina agricola con un alto contenuto tecnologico ha il suo ritorno in termini di investimento, perché è un bene strumentale. Pertanto conviene investire in un bene che non solo è contraddistinto da una qualità, un'affidabilità più elevata rispetto ad altri concorrenti che producono macchinari a medio-basso costo, ma hai anche un servizio di formazione e di assistenza post vendita che fa la differenza. Anche perché, detto così, noi italiani produciamo grandi macchine, andiamo a vendere, no, non funziona così, perché abbiamo dei concorrenti non indifferenti, soprattutto per quanto riguarda i prezzi magari. Pensiamo a certi produttori, certi colossi, India, Cina, però anche loro sono interessati a quelle aree, non è soltanto appannaggio nostro, diciamo non italiano ma europeo. Sì, certamente. Dirò di più che adesso, viaggiando anche in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, notiamo un cambio per quanto riguarda le presenze dei competitor dell'industria aliena. Se prima, se fino a qualche anno fa era sicuramente predominante la componente cinese, ora vediamo sempre di più player che vengono dall'India e dalla Turchia. Anche la Turchia, certo. Esatto, con un livello sicuramente superiore per quanto riguarda le tecnologie, con prezzi più competitivi rispetto all'industria italiana, spetta a noi come industria ma anche alle istituzioni sostenere l'export italiano, perché ci è stato riferito appunto da più parti che sarebbero anche disposti a comprare delle tecnologie italiane qualora gli imprenditori agricoli o i concessionari, i distributori, gli importatori di macchine agricole avessero una maggior facilità al credito o perlomeno con tassi di interesse più agevolati. E queste sono insomma nozioni importanti da conoscere. Certamente. In chiusura, siamo fiduciosi però, siamo positivi. Il futuro insomma ci riserva qualcosa di interessante. Beh, sicuramente il futuro sì, ci riserva, diciamo, ci porta ad essere ottimisti. D'altro canto sappiamo che la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi di unità nel 2030. Domani. Esatto, domani. Dobbiamo certamente aumentare la produttività e questo è uno dei driver principali, è la meccanizzazione agricola, la meccanica agricola. Dobbiamo coltivare delle terre che sono ancora non coltivate. Molti ettari. Milioni di ettari. Se pensiamo solamente al continente africano si parla di circa oltre 200 milioni di ettari potenzialmente coltivabili. Quindi dobbiamo produrre di più, dobbiamo farlo in maniera sostenibile e quindi preservando le risorse naturali, gestendo al meglio le risorse idriche, ma questo è un problema globale. Sappiamo che il 70% dell'acqua potabile è utilizzata nella cultura, a livello mondiale. Siamo consapevoli dei cambiamenti climatici, quindi passiamo da periodi di siccità a periodi dove purtroppo siamo flagellati anche da alluvioni. Dobbiamo appunto gestire al meglio le risorse idriche e questo lo possiamo solamente fare con le nuove tecnologie. E poi dobbiamo preservare il suolo, ridurre le emissioni, l'agricoltura può essere un contribuente positivo nella riduzione delle emissioni di gas e serra e questo lo si fa attraverso le nuove tecnologie. E direi anche che in Africa, mi piace prendere come riferimento il continente africano, perché certamente tra tutti i continenti e quello che ha le maggiori potenzialità di sviluppo del settore primario, abbiamo anche il vantaggio di avere una popolazione giovane. Noi nei paesi sviluppati notiamo che c'è sempre di più un invecchiamento della popolazione agricola. Abbiamo difficoltà col cambio generazionale. Bravissimo, abbiamo difficoltà col cambio generazionale, dobbiamo certamente come paesi avanzati cercare di attirare sempre di più i giovani verso l'agricoltura. In Africa l'età media, in alcuni paesi di 25 anni, 30 anni, hanno maggiore dimestichezza anche con le nuove tecnologie, nel senso che mi riferisco ai cellulari, ai palmari, credo che ci siano più connessioni. Il giovane è un'altra pettura mentale. Un'altra pettura mentale, quindi hanno pure la possibilità e il vantaggio di fare quel salto diretto da un'agricoltura basica ad un'agricoltura avanzata, ovviamente ne tenendo conto delle condizioni locali, quindi del terreno, delle culture, delle condizioni climatiche e aspetta a noi trasferire le conoscenze, quindi fare una sorta di trasferimento non solo tecnologico ma anche di competenze per far sì che gli agricoltori possano effettivamente essere più propensi e più agevolati nell'uso delle nuove tecnologie che certamente aiutano l'agricoltura ad affrontare le sfide che sono globali. Aumento la produttività, riduzione dell'impatto ambientale, riduzione delle emissioni, preservazione del terreno, delle risorse idriche e ridurre anche la desertificazione. C'è molto da lavorare, i tempi televisivi, sai, sono molto stretti, parlerei per delle ore con te però. Io ringrazio Fabio Ricci, vice direttore generale Fedronacoma, abbiamo dato un panorama, abbiamo dato abbastanza dei dati importanti e abbiamo capito che per il futuro dobbiamo muoverci in una certa direzione. Grazie Fabio. Grazie a voi.